eccoci nuovamente in studio dopo aver ascoltato appunto l'esperienza appunto la testimonianza di suo rita giaretta delle sue rossoline che ha scritto questo libro non più schiave casa ruth il coraggio di una comunità ritorniamo a parlare appunto del fenomeno della prostituzione dello sfruttamento della prostituzione ben rappresentato nel presentato e rappresentato nel film appunto film breve come lo chiama lui l'osario enrico ballerina e a questo punto è arrivato il momento di far intervenire mi dicono che già in diretta con noi l'onorevole Mario Michelangeli che è assessore per la tutela dei diritti dei cittadini e questo è l'esatta definizione assessorato vero onorevole e buonasera la sento piano mi sente mi sente adesso meglio sì adesso la sento meglio perfetto e dicevo lei è assessore alla tutela dei diritti dei cittadini della regione lazio e giudice la tutela dei consumatori e quindi noi l'abbiamo un po interpretato in maniera estensiva come diritti dei cittadini perciò però l'esatta dicitura è tutela dei consumatori sì bravo perfetto bene stiamo parlando del punto del film breve come lo definisce appunto rosario enrico ballerina che dove si parla della della tratta delle ragazze appunto per quanto riguarda il fenomeno della prostituzione per sfruttamento favoreggiamento e tutto ciò che eh sono le attività eh delinquenziali appunto che eh girano ruotano eh orbitano intorno a questo fenomeno eh la situazione attualmente qual è perché noi poi come radio ci stiamo ci occupiamo da tanto tempo appunto del fenomeno stesso abbiamo realizzato eh diversi servizi appunto con testimonianze una volta per esempio io mi sono anche finto cliente e ho cercato di intervistare due prostitute più eh ho finto poi ho registrato esattamente il il dialogo eccetera il cliente della prostituta sono venute fuori delle cose allarmanti veramente come il il fatto che l'offerta nella maggior parte dei casi sia portata a queste ragazze con richieste di rapporti non protetti per esempio e soprattutto succede con le persone eh sposate comunque lascio a lei la parola eh per quanto riguarda questa risposta eh innanzitutto qual è la situazione attualmente nel Lazio ecco perché eh naturalmente è limitata al suo campo al suo territorio di competenza guardi intanto mi lasci salutare Rosario Enrico e gli artisti e gli ospiti che sono lì in studio anche perché il nostro il nostro è stato un incontro casuale eh quando lui mi ha parlato di questo progetto e di questo film breve un vero e proprio film eh tra l'altro molto bello da un punto di di vista artistico e un cazzotto allo stomaco invece da un punto di vista dei contenuti certo ha saputo centrare bene il problema che è appunto quello della tratta di queste giovani ragazze che vengono portate in Italia con altre motivazioni e poi vengono avviate alla prostituzione ho ritenuto come assessorato alla tutela dei consumatori di fare un'iniziativa forte su questo infatti l'otto marzo abbiamo presentato il film e abbiamo fatto una bella iniziativa ma non ci siamo fermati e non ci fermiamo lì perché la la mia intenzione è quella di sensibilizzare soprattutto i giovani eh le loro famiglie tant'è vero che abbiamo acquisito qualche migliaio di copie del del film e eh lo distribuiremo all'inizio dell'anno scolastico in tutte le scuole superiori e con in queste scuole superiori naturalmente avvieremo dei dibattiti perché il punto è quello di sensibilizzare molti ci sono molti ben pensanti che pensano eh che queste ragazze siano lì a farsi gli affari loro ben pensanti che pensano male effettivamente sì eh non si rendono conto invece qual è il dramma che è dietro questa queste situazioni che poi tra l'altro scopriamo tutti i giorni sui giornali e nel Lazio soprattutto a Roma ovviamente questa eh questa incidenza è molto elevata e molto forte certo e ognuno che passa sulle strade consolari di ingresso a Roma se ne può rendere conto e quindi ecco come assessorato alla tutela dei consumatori abbiamo voluto sponsorizzare questo questo film che tratta bene il problema e credo che sia un un appunto un film che ci aiuta a riflettere e forse a far conoscere una situazione che molti non conoscono e pensano tutt'altro. Guardi ehm onorevole io le devo eh la devo rinanzitutto ringraziare per la sensibilità che le sto eh notando in queste anche poche parole eh perché no perché la prima volta che mi trovo di fronte è una persona rappresentante delle istituzioni eh che eh affronta questo problema perché le ripeto sono in dieci anni di trasmissione sono almeno otto anni che ci occupiamo di questo fenomeno qui a Radio Roma e le dico e ringrazio a voi per anche per la per la vostro per il vostro attivo impegno no ma le dico perché su questo c'è bisogno di un impegno forte anche da parte delle istituzioni poi noi abbiamo anche in mente un'altra qualche altra cosa con gli altri colleghi assessori eh assessori nel senso per esempio di eh bilanciare una iniziativa che già è nel Comune di Roma che è quello delle casse protette quindi per cercare di togliere queste ragazze dalle strade. Certo no comunque le dicevo eh effettivamente è la prima volta che sento veramente una persona che si occupa perché io più volte ripeto mi sono occupato di queste cose per esempio eh le faccio due esempi eh proprio di eh scontro eh contro il muro dico ma spesso delle istituzioni. La pineta di Ostia, lei è presente chiaramente la pineta di Ostia eh con il degrado perché poi noi parliamo tanto di ragazza di tratta delle donne eh però c'è anche un discorso di sfruttamento anche dei transessuali sono in realtà molto più complessa e molto più eh di nicchia in qualche modo più difficile da eh da penetrare effettivamente e comunque il discorso del degrado della pineta di Ostia ci siamo occupati di questa cosa intervennero per esempio l'orrevole Bontempo sul fenomeno l'orrevole Angelo Bonelli eh che attualmente è il capogruppo dei Verdi alla Camera e però il rappresentante istituzionale forse più eh emblematico per il territorio appunto del tredicesimo municipio che era all'epoca eh Davide Bordoni che attualmente eh è consigliere comunale al comune di Roma per forza Italia e addirittura non intervenne perché non ritenne opportuno necessario intervenire su questo argomento e in un territorio dove i vigili urbani in un territorio di quel tipo dove i vigili urbani non si vedono in pineta per tutta la settimana però si vedono la domenica per fare multe alle famiglie dove i bambini giocano a a un metro due metri da eh rifiuti organici da profilattici usati e fazzoletti usati e questo fu eh il nostro approccio con le istituzioni le però adesso le provoco anche un leggero dolore probabilmente perché eh il settimo municipio eh racchiude la zona del mattatoio le le conosce il presidente del settimo municipio era l'onorevole Stefano Tozzi che penso sia del suo stesso partito e all'epoca noi abbiamo fa abbiamo intervistato sia l'onorevole Tozzi che l'onorevole eh Caradonna che era del quinto municipio perché il mattatoio si trova a ridosso addirittura il eh mattatoio la zona del mattatoio è l'attuale dove fanno una nuova portaportese praticamente per tanto per intenderci e noi il titolo era proprio che la al mattatoio la carne è debole era questo proprio il titolo del dell'articolo che tra l'altro potrà trovare anche su dialimedia.it il portale di informazione eh che dirico online e praticamente le dico all'epoca era stato addirittura nel dato che c'è un divieto nel proprio nell'ambito di eh della zona eh di via via adesso non mi viene non mi so bene la via però eh dove praticamente c'è questo commercio del sesso da parte dei transessuali soprattutto in quel caso credo che sia sì eh no no la parmina Togliatti è quella di Acente però la via proprio dove c'è il divieto di transito alle autovetture da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba praticamente lì se uno va alle tre di notte è come se fosse a via le marconi alle cinque del pomeriggio la stessa identica cosa in questo eh eh diciamo territorio eh diciamo a limitata eh transito limitato eh praticamente c'era addirittura un rivenditore di bibide Peppanini praticamente eh autorizzato con un permesso di equazione solo pubblico e questa è una cosa che secondo me a parte il controllo vabbè che dovrebbe sul territorio a parte le forze dell'ordine a parte dei vigili urbani mh e questo l'orevole Tozzi era insomma limitata a me la cosa che però mi sorprese all'epoca che eh sia da parte dell'orevole Caradonna che dalla presente eh Tozzi appunto c'era mancanza di informazione nei confronti di questo fenomeno poi successivamente a questo intervento nostro diciamo informativo mediatico ci fu la come dire mh furono messi dei cordoli per delimitare almeno le alle le aree di parcheggio però le macchine e le automobili passavano lo stesso sulla strada e poi eh per un periodo insomma la cosa è stata un po' arginata in questo modo ultimamente invece eh ho mandato i collaboratori insomma eh sul posto che per controllare e hanno verificato che effettivamente nuovamente il c'è nuovamente ci sono addirittura due che due eh diciamo furgoni ambulanti che appunto vendono bibite e panini e naturalmente se non ci fosse stata adesso mi sembra che l'orevole a tutti non sia più presente alle sette